Io ho già lanciato le candidature 20 giorni fa, siamo pronti sia con i candidati sia con il programma, aspettavamo il nome del candidato presidente, ora c'è il senatore Marsiglio che ci rappresenterà. Con gli alleati abbiamo fatto alcuni step per quanto riguarda la composizione delle liste, sapete tutti che noi abbiamo chiesto coerenza per la composizione delle liste e ribadisco ancora una volta che nelle liste del centrodestra in cui ci sarà la Lega non possono trovare spazio chi ha governato con il governo di centro-sinistra in regione. E su questo non lo dice Peppe Bellaghioma ma lo dice Matteo Salvino. Dunque, rottura con l'Udc o Udc a patto che non ci siano quei nomi? Noi auspichiamo che l'Udc in qualche modo capisca un discorso di coerenza, sia partecipe dell'alleanza di centrodestra, ma ripeto, così come noi per quattro anni abbiamo rispettato ogni decisione del centrodestra, in questo momento essendo il partito che dovrà, spero, ma non tanto sui sondaggi ma quanto dalla percezione popolare, guidare alla vittoria il senatore Marsiglio come governatore della regione Abruzzo e tutto l'intero comparto del centrodestra non è una condizione, non è una minaccia, è soltanto un discorso di coerenza. Lo ribadisco, chi ha governato con il centro-sinistra non può essere candidato nelle liste alleate nella Lega nella battaglia che faremo alle prossime regionali. E quanto siete preoccupati della corsa solitaria di Fabrizio Di Stefano, un esponente di centrodestra molto noto? Sì, sulla capacità politica e sull'esperienza politica di Fabrizio non ci sono dubbi, io dico e penso e sono assolutamente certo che Fabrizio ha un'anima di centrodestra e che sicuramente per quanto mi riguarda come segretario della Lega farò di tutto perché Fabrizio entra a far parte della squadra del centrodestra. Su Marsiglio tutto risolto, questa mattina Salvini ha detto che è il miglior candidato per il centrodestra. Lo ritengo anch'io.